Io voglio solamente dirti questo Carmelo, ti aspetto l'anno prossimo qui a scuola così come hai fatto l'anno scorso insieme ai tuoi collaboratori, ma questa volta ti voglio qui con Valeria e i tuoi due meravigliosi bambini perché così potrai raccontare a tutti quanti noi, a tutti i bambini come si superano le difficoltà. Per cui un grosso abbraccio, un bacio da parte di tutta la mia famiglia a te, a Valeria e ai due bambini. Ciao Carmelo. Ciao Carmelo, ti mando questo videomessaggio perché avrei bisogno del tuo aiuto. Avendo una squadra molto giovane avrei bisogno che venissi qui in palestra per aiutarmi ad insegnare alle ragazze cosa significa non mollare, cosa significa non arrendersi mai, cosa significa non darsi mai per vinto. E nessuno meglio di te lo può fare. Quindi ti aspetto a braccia aperte, non vedo l'ora che vieni qui in palestra a darmi una mano perché abbiamo bisogno del nostro gladiatore sanita. Un abbraccio Carmelo e ti aspetto. Ciao Carmelo, l'Accademia Volley ti è vicina, hai vinto tante partite, vinci questa che è la battaglia più importante. Valeria, un abbraccio affettuoso anche a te dalla tua Accademia. Ciao Carmelo, sono Giovanni Micco, una persona che tu conosci benissimo e che abbiamo trascorsi tanti anni insieme giù allo stadio Ciro di Corito. Ti conosco da calciatore e da uomo. Sei un uomo forte, anzi fortissimo. Hai dato coraggio a tante persone che soffrivano. Oggi questo messaggio te lo trasferisco a te. Non mollare Carmelo, che ti aspettiamo tutti a Benevento. Meglio di prima. Ciao Carmelo, l'abbiamo. ma ovviamente il Anderson non è la prima ma il 42.195 metri è molto grande è qualcosa di più una trasmissione la line è arrivato 61.80 quindi dal gruppo hanno avuto 5 una scena allora l'apertura la scena la scena la scena è arrivato la scena la scena la scena ancora 30 metri questo è il grande del amministrativo la proiettoria, la proiettoria e ascoltate cosa è che si tratta si tratta di più di più di la nittoria e si tratta di più di 3 metà perché per i gli olympiatici Grazie per la visione Grazie per la visione Di là da questo luogo di ira e di lacrime Si staglia solo l'orrore della fine Ma in faccia agli anni che minacciano Sono e sarò sempre Inperturbato Non importa quanto angusta sia la porta Quanto impietosa la sentenza Sono il padrone del mio destino Il capitano della mia anima Grazie per la visione